E' in nostra compagnia Jessica Dantini che da sempre ha la passione dei vestiti vintage Dai quali li prende e li rimodella cercando di farli diventare alla moda come si vuole nei giorni nostri Intanto ben ritrovata Jessica, grazie per essere con noi Grazie a voi per l'invito Come è nata questa tua passione? Parlavamo prima, sono tanti anni Sì, è da tantissimi anni che mi occupo di dare nuova vita ai capi Il tutto è nato come una vera passione da quando ero piccola Grazie alla mia nonna che in Inghilterra mi portava in giro per i mercatini E da lì ho iniziato ad avere una passione vera e propria per le stoffe, per i ricami E in fase di lockdown ho iniziato a svuotare l'armadio E accorgermi di avere tanti vestiti che non utilizzavo più E quindi ho deciso di dar loro una nuova vita Tagliandoli, dando loro nuova forma e cucendoli a seconda dei miei gusti Ecco, quello che hai lanciato alla fine è anche un grande messaggio di sensibilizzazione Nei confronti del riciclo, quindi di non buttare via Ma di cercare di dare una nuova vita, una seconda vita ai vestiti E questo è un bel messaggio che va trasmesso? Assolutamente sì, io credo nel poter dare una seconda vita ai nostri vestiti Ne abbiamo talmente tanti Ed è bello anche dar loro un carattere Un qualcosa che ci rappresenti Facendo appunto attenzione anche all'ambiente Anche perché io credo che dietro una singola creazione ci sia la persona stessa C'è la creazione, le emozioni, i sentimenti che uno mette nel lavoro che fa Assolutamente Questo per ora è un hobby Devo dire però che tramite la mia pagina sto riscuotendo un po' di successo Proprio perché i capi parlano di me E sono ispirata dalle stoffe che mi capitano tra le mani E da lì nasce poi il progetto di ogni singolo capo E parlavamo prima, mi hai messo di fronte a dei dati che neanche io conoscevo Ed è veramente tanto lo spreco e l'uso che viene fatto della stessa acqua Per un semplice paio di jeans, dicevamo prima Sì, molte persone non lo sanno però dietro ad esempio a una t-shirt Ci vogliono almeno 2.700 litri d'acqua per produrne una sola Un paio di jeans, 10.000 litri Quindi ognuno di noi può fare qualcosa nel suo piccolo E appunto riapprezzare quello che ha nell'armadio E con piccoli accorgimenti dare una nuova vita appunto ai propri capi Anche perché vi viene in mente tanti al giorno d'oggi Hanno veramente tantissimi vestiti e molto spesso vengono buttati Quando invece si potrebbe veramente lanciare questo messaggio Di sensibilizzazione al riciclo e anche quindi al non inquinare Assolutamente sì Il riciclo diciamo che adesso è ancora focalizzato sulle materie prime Ma diciamo che il mondo della moda negli ultimi anni sta facendo molto E noi nel nostro piccolo possiamo anche contribuire facendo delle scelte più mirate Dando appunto spazio a ciò che possediamo già Risparmiando e diventando anche più personali nel nostro modo di vestire Ecco io penso che questo sia un messaggio da lanciare soprattutto ai più piccoli Quindi magari anche portare questo tuo progetto nelle scuole Sarebbe molto molto interessante appunto renderli partecipe di quelli che sono gli sprechi Che ci sono oggi nella moda e dar loro anche la possibilità di esprimere la loro creatività Nella loro cameretta partendo appunto dai capi basic che hanno a portata di mano Anche perché è un modo per togliersi da quella che è la, tra virgolette, anche monotonia della vita moderna Sempre davanti agli schermi, davanti a una televisione frenetica Invece quello è un modo anche per trovare spazio per se stessi Certo, è anche un modo per riscoprire l'artigianalità anche tra i più giovani Che potrebbero veramente esprimersi in maniera sana tramite appunto la moda e il riciclo creativo Un'ultima battuta e poi passiamo a vedere nel concreto i tuoi capi Quali sono adesso i progetti per il futuro? I progetti sono tanti Sicuramente continuare a diffondere questo messaggio soprattutto nella nostra regione In cui l'uso dei capi di seconda mano del vintage non sono ancora così sviluppati Sarebbe bellissimo poi poter collaborare magari con qualche ente in regione Che è sensibile appunto alle tematiche ambientali Spostando appunto il focus sull'abbigliamento Mi ero dimenticato di chiederti prima Hai aperto appunto la pagina Instagram e stai riscuotendo diverso successo Ed è bello vedere anche come le persone si interessano e ti facciano domande In merito ai tuoi capi Sì, io ho aperto delle piccole rubriche proprio su come poter modificare un capo Le ragazze e i ragazzi ad esempio mi mandano una foto di un capo E io suggerisco loro settimanalmente le varie modifiche che potrebbero apportare Appunto per evitare di buttarlo ma di dar nuova vita appunto ai loro vestiti Adesso andremo a vedere nel dettaglio qualche creazione di Jessica Jessica, te la scelta del primo capo Allora, partiamo da una giacca in jeans che era molto molto semplice Alla quale ho applicato dei pizzi vintage Nella parte dietro ho scelto un broccato I broccati erano i vecchi centrotavola che usavano le nostre nonne Diciamo all'ora del caffè, all'ora del tè Che spesso buttiamo via ma che hanno una lavorazione talmente bella Che è peccato non sfruttarla Sono anche queste decorazioni che si fanno fatica a trovare in giro? Assolutamente sì, io le recupero nei mercatini Le recupero anche da vecchie amiche E per me sono veramente un grande dono Perché appunto la lavorazione che c'è dietro ad ogni singolo pizzo E' veramente lunga E quindi è giusto dare la giusta importanza proprio a questi ricami Ricordiamo che questi sarebbero tutti i capi che tendenzialmente avrebbero buttati via Assolutamente sì Quanti di noi avranno una giacca in jeans che non utilizzano più Perché magari ha un colletto un pochino rovinato Che si può sempre comunque rifoderare Con un bel tessuto O una macchia A proposito di macchie ad esempio ho un altro esempio Questo era un maglioncino vintage bellissimo E' partito da un colore rosa E questo maglioncino poi l'ho tinto E erano rimaste delle piccole macchie E ho deciso di ricamarci sopra delle margherite E fatte comunque tutte a mano Ecco hai parlato prima di giacchetto in jeans E là ne vedo proprio uno appeso Sì Ne abbiamo un altro Questo qua è un giacchetto in jeans Che non utilizzavo più E che era diventato ormai obsoleto Ho deciso di applicare delle frange Della passamaneria Che solitamente si utilizza anche per decorare le lampade Qualche piccola perlina di qualche collana rotta E in più un disegno Ecco per concludere lascio la scelta a te Qual è il capo tra questi che per te è più significativo O che ha maggior valore? Beh di sicuro direi questa giacca qui Questa giacca è la tipica giacca d'ufficio Che molte di noi insomma utilizzano al lavoro E mi piaceva però molto il taglio di questa giacca E quindi ho deciso di ritagliare appunto E disegnare la base del viso Per poi cucirla completamente a mano Mi c'è voluto veramente molto molto tempo per realizzarla Ma devo dire che sono molto soddisfatta del risultato Bene, ora noi ringraziamo Jessica Dantini Per essere stata con noi E' veramente un bel messaggio quello che vuoi lanciare Pensando che è partito tutto da capi usati E quindi è giusto che questo messaggio venga diffuso Grazie mille a voi E grazie ancora per avermi ospitato Grazie mille a voi